www.feyyaz.com Finalmente sono tornato in Africa! Ma a te ti piace più l'Africa che il Napoli? Capù, l'Africa è nata cosa! Giù, tutti giù, avanti! L'Italiano è ancora vivo e potrebbe scoprire dove teniamo il professore. Perché un professore che si occupa di scarafaccia? Improvvisamente sparisce. Nella sua testa c'è più oro che nelle casse dei re di Arabia. Chi mi paga vuol sapere che cosa c'è nella sua mente. E' la scoperta del secolo! Io ho trovato il tropelio! Ma ce l'ho pure qualche bello indovinello da risolvere? Pronto, 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 Bodo, pronto, pizza, passo giù! Ma qua, pizza, brodo, ma che stai dicendo? Sto parlando con Bodo, è l'unico modo per tenerlo qui. Pronto, Bodo, mi senti? E' solo questo che ci voleva dire, oi? Ma questo è proprio un fedentone, sai? Hai fallito alle piramidi, non sei quel grande professionista che pretendi di essere. Liquida Lizzo, il resto dopo. Tu non sai come sia stato divertente vedere il commissario Lizzo in azione. Ferma! Vado a fare! Ti guardo alle spalle! Vado a te! Come non detto! Il svedese è un killer, deve pigliare gli ordini da qualcuno. Può parlare o no? E può parlare! Il prigioniero che cerchi è qui al Cairo, nell'antico mercato di calone. Commissario, ma come vi hai fidato dell'informazione di quel tipo? Non mi fido di nessuno, però devo controllare tutto. Va bene. Leva a diabolica sotto la coperta, sennò quella si soffoca. Leva a diabolica sotto la coperta, sennò chi lo soffoca? Ma che ho fatto? E Bodo che sta sotto la coperta! Bodo! Eh, mannaggia! A piedone, non lo fai fesso! Chi le è forte, veramente! Tutto vicino assicomite là c'è! Sei! Allora, vediamoci il mio sentivo! Cracko che lei sul nostro soffice! 추llo che lei è highest fatlo! Riponamma allora!